67 scatoloni pieni di maglioni di lana, in totale quasi 1700 prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine nata nel 2009 per disarticolare un'associazione criminale dedita alla produzione e commercializzazione di capi contraffatti nel Comasco e oggi donati in beneficenza all'opera Don Guanella. Con la definizione del procedimento penale conclusosi con la condanna ai responsabili, in accordo con l'autorità giudiziaria, si procede oggi alla devoluzione dei prodotti privi del marchio, o meglio i prodotti semilavorati sui quali ancora non era stato apposto il marchio delle note griff italiane. Quindi anziché finire nel solito inceneritore saranno devoluti. Un milione di euro il valore complessivo della merce sequestrata, compresi i prodotti distrutti perché già contraffatti, con l'etichetta cucita. Diverso il destino dei capi trovati in alcuni magazzini dell'Erbese, ancora nella fase intermedia, praticamente anonimi. Quasi 1700 maglioni, la cui composizione è già stata esaminata dai funzionari della Camera di Commercio di Como, che serviranno a riscaldare i più bisognosi come gli anziani, i minori e i profughi ospitati dal Don Guanella o i poveri e senza tetto che si rivolgono alla struttura per avere cibo e vestiti. Non siamo che lieti e grati della conclusione della vicenda perché questo materiale che la Guardia di Finanza ci dà, siamo convinti, va a buon uso.